Messina continua a essere invasta dai rifiuti, in città si rischia una vera e propria emergenza sanitaria. Stamattina è arrivata l'ennesima ordinanza che di fatto conferma la determina della regione, la quale stabilisce il nuovo limite per il conferimento dell'imbondizia in discarica, 261 tonnellate a fronte di una produzione giornaliera che ne sui era circa 300. L'assessore Ialacqua la definisce una guerra politica contro la città. Nonostante l'ennesima rassicurazione oggi esce la nuova ordinanza con le stesse quantità da conferire in discarica che non sono in grado di smaltire tutta la quantità di rifiuti che vengono prodotti in città. Questo è veramente un atto di guerra politica nei confronti della nostra comunità messinese. Ho già allertato il sindaco, oggi renderemo noto degli atti duri di protesta perché non è possibile trattare così una città come Messina e tanti altri comuni che oggi sono in piena emergenza non voluta e non dovuta. Ieri mattina il direttore tecnico della Messina Ambiente Roberto Lisi si è regato nuovamente in procura dove ha depositato una memoria contenente i dettagli di questa vicenda. Al comune invece il sindaco a Corinti e l'assessore Ialacqua hanno incontrato i capigruppo del Consiglio Comunale per discutere sulla proposta di delibera riguardo la nascita della nuova società che dovrà sostituire Messina Ambiente. Abbandonata per il momento infatti la prospettiva del trasferimento di competenze, personale e mezzi in AMAM per i troppi impedimenti amministrativi ed economici. Intanto il presidente della regione Rosario Crocetta ha già promesso interventi rapidi per aiutare i comuni in difficoltà ribadendo che dopo lo spostamento dei comuni del Palermitano su Bello Lampo, Sicula, Trasporti e OICOS sono nelle condizioni di trattare tutti i rifiuti della Sicilia orientale senza alcun problema. Stamattina invece a Palazzo Zanca è riunione con le associazioni di categoria per le iniziative sui nuovi sistemi di raccolta differenziata. Oggi parleremo di differenziata, parleremo di cose serie che non sono quelle che in questo momento non vengono fatte a livello di regione siciliana in cui si pensa che con un paio di ordinanze, con un dispositivo si possono allevare i rifiuti della strada. Questo ci potrebbe aiutare veramente a ragione, certo non sarà nell'immediatezza ma da qui a qualche mese sicuramente i risultati si potrebbero vedere.